Tante persone si sono riunite ieri sera davanti all'ingresso dell'ospedale San Massimo di Penne per un momento di riflessione priera alla vigilia del declassamento del nosoccomio vestino a ospedale di area disagiata che scatterà il primo luglio. Questa riordinazione porterà alla chiusura del reparto di geriatria. A disposizione dei pazienti rimarrà solo un'unità operativa complessa di medicina generale con 40 posti letto. Invece il reparto di cardiologia avrà esclusivamente un ambulatorio e un servizio che permetterà il ricovero nel reparto di medicina. Sarà una serata di riflessione, di ascolto anche dei cittadini e anche di preghiera che non guasta ogni tanto. Noi ci siamo mossi anche in altre direzioni cercando di fare pressione sulla neoministra della salute la dottoressa Grillo. Penso che riusciremo intanto a fermare il tutto. Sono convinto che ci saranno altri parametri, nuovi parametri che non sono solo i numeretti. Purtroppo qui questa sera si pronuncia il de profundis di questo ospedale che diventerà, come avete detto, di zona disagiata. Sicuramente questo non è un bell'atto che si realizza questa sera ma purtroppo dobbiamo accettare le decisioni che sono venute dall'alto, dalla regione e poi dall'azienda sanitaria. Fermo restando che poi ci dobbiamo ancora giocare l'ultima carta che è quella a livello parlamentare. Io ho avuto un'audizione in Senato alcuni giorni fa, ho fatto presente tutto ciò che costituiva per l'area vestina l'ospedale di Penne e ho tenuto a precisare che questo ospedale, ripeto, non è l'ospedale di Penne è un ospedale che fornisce i propri servizi a 50-60 mila persone.